La gestione faunistica in Appennino è una sfida non priva di complessità. La complessità è un aspetto di fondo ma anche di pregio dell'ambiente appenninico. Per una gestione faunistica efficace, in tutte le sue declinazioni, è importante che si riacquisisca una coscienza del territorio, ovvero una coscienza d'Appennino dal punto di vista politico-istituzionale e anche delle capacità di chi può fare che cosa all'interno e all'esterno delle aree protette rispetto alle normative che vigono in questi due grandi settori operativi. In particolare dobbiamo riprendere una capacità di gestire il territorio e seguendo le priorità che ci dà la piramide alimentare e iniziare da una gestione consapevole degli ungulati, che tenga conto delle particolarità territoriali, delle opportunità che questa gestione può dare anche alle comunità locali e poi acquisita consapevolezza e capacità di gestire degli ungulati selvatici, possiamo anche, seguendo la piramide ecologica, riferirci anche ad una capacità gestionale e una consapevolezza migliore della gestione del lupo, dell'orso e delle interazioni tra i carnivori e le attività antropiche su questo territorio così ricco di bella complessità.